Questo è il micro lift, non dico di dove, però guardate come è stato montato, io praticamente per lavorare nel quadro devo lavorare nel vuoto, oh 7 fermate, non è una, il vano è tutto chiuso, io ho lavorato a questa botola, una scala messa coscire sopra un cesso, per farvi capire chi ha montato sa fare la menaie, bello eh, vabbè dai, coscire il pubblico, finisce lì, ciao.